Ombre pesantissime sul processo di bussi, quello dell'inquinamento della falda acquifera che interessava una grandissima porzione di territorio pescarese. Si conta che ad essere coinvolte siano state 700.000 persone esposte a contaminanti cancerogeni. All'indomani delle dichiarazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano, circa la non serenità di giudizio da parte della giuria popolare, il Forum Abruzzese dell'Acqua, che aveva portato avanti il caso sin dall'inizio, presenta un esposto alla Procura di Campobasso. Sicuramente è un caso incredibile trovarsi sui giornali queste dichiarazioni che chiaramente vanno confermate nelle sedi opportune, che sono quelle della magistratura e del CSM. Ora, sicuramente noi siamo esterefatti, perché stiamo parlando di un processo fra i più importanti d'Italia che riguarda la salute di 700.000 persone e un contesto di eventuali danni ambientali, secondo la pubblica accusa, di 2 miliardi di euro. Ora, noi come Forum dell'Acqua, per garanzia di tutti, di tutte le persone anche citate, ma anche e soprattutto per la garanzia dei diritti di noi cittadini di avere giustizia, abbiamo presentato stamattina un esposto alla Procura di Campobasso e al CSM. Intanto per accertare la veridicità di quanto riportato dal fatto quotidiano, per identificare le persone citate come fonti. Sono dichiarazioni pesantissime, dice De Sanctis, dichiarazioni che, se confermate, aprirebbero una pagina gravissima per l'Abruzzo e per la fiducia verso le istituzioni. Una fonte avrebbe infatti dichiarato di essere a conoscenza della sentenza della Corte, quella di assoluzione, con settimane di anticipo. La giustizia è importante perché attiene alle responsabilità. Se salta il principio di responsabilità, se salta il principio chi inquina paga, beh, veramente la nostra comunità si disgrega totalmente. E anche per il futuro, se c'è impunità per prescrizione, come in questo caso, o per fatti magari anche più gravi, che ripetiamo, devono essere tutti accertati, beh, il vivere civile non c'è più, c'è inciviltà, c'è barbarie. E quindi è importante ottenere giustizia e non possono rimanere queste ombre lanciate dal fatto quotidiano, da questo scoop, su una sentenza così importante.